Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video tutorial, io sono Manu amici miei Oggi siamo qui tornati con le sfide della settimana numero 2 di Fortnite Siamo con la sfida e questa volta ci richiederà di scattare contro un masso cadente e smuoverlo ovviamente con una girosfera Ragazzi la sfida è veramente molto semplice però prima di iniziare io vi ricordo di lasciare un bel pollicello in su E se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale, manca poco ai 1100 iscritti Grazie a tutti coloro che lo faranno Comunque ragazzi dove possiamo trovare le girosfere, eccole qui, siamo proprio qui alla stazione vicino alla caverna Tannastrana Eccola qui, dove inizia la ferrovia Ragazzi dopo aver preso la girosfera andiamo da questa parte perché proprio qui in questa montagna ragazzi ci sarà un masso cadente Sono i nuovi massi che sono stati aggiunti nella nuovissima season di Fortnite Infatti come potete vedere potete anche utilizzare lo scatto della girosfera e così lo farete muovere La sfida è stata completata, veramente molto molto semplice Ragazzi spero che il video vi sia stato utile, è stato così mi raccomando lasciate un bel pollicello in su E se non siete ancora iscritti iscrivetevi al canale Trovate tutti gli altri video tutorial sul mio canale Io vi saluto qui da vostro mano di quartiere come al solito è tutto e ci rivecchiamo alla prossima Bella